Mette da Akao, uno contro uno con Lodi, va con il destro e si supera Calcaro, grandissima parata del portiere dell'Alitalia. Alza allo sguardo Giannini, prova ad impostare, pesca Seferi bene, Seferi sul fondo, rientra sul sinistro, Seferi ha le sue giocate, Seferi Paoletti risponde ancora una volta a Claude Seferi, poi virli. La distanza, Chirico, ancora Mellaro con il dentro, palla che rimane lì, miracolo di Rossi, Seferi alto sulla traversa. Forsemente stanno, il Cotton Club, attraversando quello stesso momento opaco che attraversò il Chico dello Scappicola e inizia la giro di andare, qui Pompei la mette in mezzo, dall'altra parte per Parroni che arriva con il sinistro, un miracolo di Santarelli a dire di no.